Ci troviamo a parlare di Lucca. In realtà, quando ho pensato a una delle città su cui fare delle mie dirette, ho pensato subito a Lucca senza ricordarmi che avevo già fatto una visita a Lucca, tra virgolette, in dieci minuti su YouTube con tutti i monumenti che ho visto insieme alla mia famiglia. E allora ho dovuto un po' variare, modificare, no? E quindi dare un taglio più storico all'incontro di stasera. Lucca è una delle città d'arte più importanti d'Italia ed è celebre soprattutto per le mura. Le mura sono state costruite tra il XV e il XVII secolo, soprattutto nel XVI secolo. Sono mura del 1500, ecco, anche se sono state iniziate alla fine del 400 e terminate all'inizio del 600. Praticamente le mura... ecco, intanto salutiamo Simone Martinotta qui su Instagram che ci sta seguendo. Diamo una piccola occhiatina a YouTube per vedere se c'è qualcuno che... ecco, Sicenzi non oro che ci sta seguendo. E poi Alessandra Alex che dice si sente un po' piano. Facciamo così. Allora, da adesso in poi la mia voce stentoria si farà sentire molto molto bene da tutti quanti. Benissimo. Allora, stavamo dicendo che indubbiamente una cosa che affascina subito il visitatore che si accosta a Lucca è questa cinta muraria imponente. Sono quelle mura che sono state costruite appunto intorno al 500 per poter resistere ai cannoni. Ormai erano già in uso le armi da fuoco e quindi le mura medievali che erano state costruite sicuramente alte, però molto meno spesse non erano più in grado di resistere ai colpi di cannone. Ciao Simone, intanto. Si sbriciolavano, ecco, ai colpi di cannone. Era necessario costruire un altro tipo, un'altra tipologia di mura come quella appunto che state vedendo adesso nella slide, appunto, le mura di Lucca. E sono ben pochi i capoluoghi di provincia italiani che hanno una cerchia muraria rinascimentale dicevamo che essenzialmente è cinquecentesca questa cerchia muraria intatta, solo Ferrara, Grosseto e Bergamo condividono un gioiello simile simile perché in realtà così anche isolata da questo verde da questo prato che potete vedere appunto qui nessuna città ha una cinta muraria così suggestiva tant'è vero che, come studieremo, nel 1800 una granduchessa ha pensato bene di farne una vera e propria passeggiata di non usarla più come mura anche se in realtà queste mura sono nate per quello scopo difensivo ma non sono mai state utilizzate per quello scopo il semplice fatto però di averle costruite così massicce probabilmente ha diciamo ha creato un in color che magari aveva l'intenzione di assalire la città un disincentivo un motivo quindi per abbandonare queste velleità è una sorta di isola pedonale tutti questi 4 chilometri e passa sono 4223 metri circa il perimetro di queste mura sono una vera e propria piacevole passeggiata comunale e si diceva anche che praticamente le mura erano utilizzate grazie alle dimensioni notevoli della carreggiata come un vero e proprio viale di circonvallazione per il traffico anche pesante intorno alla città unico esempio al mondo di cinta murale di queste dimensioni è con questa utilizzazione poco fanno i cinesi nella loro come dire muraglia cinese che lo usano anche per come via via appunto per viaggiare di comunicazione anche le mura di Lucca erano una sorta di circonvallazione della città stessa ecco Lucca vista dall'alto con queste imponenti bellissime mura che la circondano il centro storico possiamo vedere ecco il centro storico della città è rimasto pressoché intatto nel suo aspetto originario proprio anche per la presenza di queste mura che l'hanno protetta un caro saluto un abbraccio intanto a Raffaella Ugolini una bravissima docente un saluto anche a Lorenzo che ci sta seguendo su Instagram ecco dicevamo quindi che questo centro storico è rimasto pressoché intatto con tantissime architetture di pregio come le numerosissime chiese medievali di notevole ricchezza Lucca infatti è stata soprannominata la città delle cento chiese proprio per la presenza di numerose chiese nel suo nucleo storico chiese consacrate e non consacrate presenti in passato magari anche attive in passato ora in città comunque come una testimonianza di una storia importante tante anche le torri indubbiamente che caratterizzano la città i campanili presso queste chiese i monumentali palazzi rinascimentali ecco uno degli spazi urbani più suggestivi della città di Lucca è la piazza anfiteatro probabilmente la piazza più famosa che è stata costruita sulle rovine dell'antico anfiteatro romano ad opera dell'architetto Lorenzo Nottolini si tratta di qualcosa di davvero unico nel suo genere architettonico una piccola gemma un'altra delle strade più importanti di Lucca è la via Fillungo come potete vedere anche da questa fotografia da una parte e dall'altra della via Fillungo ci sono suggestivi negozi di abbigliamento di artigianato sicuramente ci sono proprio i negozi più importanti della città appunto presso la via Fillungo una chiesa importantissima è la chiesa di San Michele che è il fulcro storico della città potete notare le logge che la caratterizzano e che la rendono veramente unica bellissima addirittura quattro ordini di logge laddove è la facciata invece vedete un unico loggiato nei fianchi di questa chiesa un'altra piazza molto importante è la piazza San Martino ecco qui potete vederla che è il fulcro religioso dove sorge il celebre Duomo però non lo riconosco qua forse la foto ci fa vedere un'altra piazza di 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 Lucca vi assicuro che poi dopo dovremmo avere una foto con il Duomo di Lucca che si vede molto molto meglio ecco qui per esempio allora andiamo andiamo un pochettino avanti qui abbiamo nuovamente le mura ecco probabilmente questa piazza grande enorme deve essere piazza Napoleone non la piazza del Duomo non la piazza San Martino piazza Napoleone è chiamata anche piazza grande fu voluta da Elisa Baciocchi durante il suo principato furono demoliti alcuni edifici medievali tra cui anche una chiesa per costruire questa enorme piazza vicino a questa piazza c'è anche la piazza del Giglio dove si affaccia l'omonimo teatro del Giglio che è un teatro tradizionale appunto lucchese ecco pensate che addirittura è stata avanzata di recente la proposta di includere le mura di Lucca nella lista del patrimonio dell'umanità dell'UNESCO quindi veramente appunto vi dicevo qualcosa di unico questa città di suggestivo io personalmente ho visitato questa città sono rimasto colpito dalla gente operosa di Lucca e dalle persone con le quali mi sono trovato subito in sintonia le ho trovate socievoli molto socievoli molto affabili molto dedite appunto le attività commerciali ecco ritorniamo alla nostra piazza anfiteatro per parlare un po' della storia di Lucca ecco Lucca è nata come un insediamento ligure si trova quindi in un certo senso al confine tra il territorio dei liguri e il territorio degli etruschi ma è proprio abitata dai liguri mentre altri però non è detto perché c'è un appunto siccome è proprio a questo confine alcuni invece sostengono che sia stata abitata dagli etruschi purtroppo non abbiamo diciamo delle testimonianze anche architettoniche di qualsiasi genere insomma che precedano l'arrivo dei romani più o meno comunque deve essere nata non molto prima dell'arrivo dei romani ed si è sviluppata poi come colonia romana dal 180 avanti Cristo quindi una città romana ecco qui mi ha fatto vedere appunto l'anfiteatro c'è addirittura un mercato una piazza dove si fa un mercato che viene chiamata la piazza del mercato del foro proprio perché evidentemente là sotto si trovava il foro romano ecco che cosa è successo poi una volta accaduto l'impero romano sono arrivati i longobardi per i longobardi Lucca era una città importantissima era la capitale del ducato longobardo della Tuscia cioè la città più importante si può dire della Toscana nel periodo longobardo poi ancora Lucca si sviluppò come un comune nel XII secolo e poi come una repubblica a questo punto però quindi diciamo nell'epoca del basso medioevo doveva contendere uno spazio un'autonomia ad alcune città che dobbiamo dirlo si erano sviluppate di più rispetto a Lucca quindi città come Pisa Firenze e Siena la repubblica di Lucca la repubblica di Lucca è rimasta per tantissimo tempo è stata veramente una cosa importantissima che praticamente è venuta a meno solamente con Napoleone ecco qua la posizione di Lucca la posizione strategica di Lucca in età romana come vedete come stavo spiegando si trova proprio al confine di quella che era considerata la Civitas romana quindi come dire proprio quella parte vi ricordate il rubicone quella parte segnata dall'Arno e dal rubicone che era considerata Civitas romana e che non poteva essere ricordata Cesare varcata con un esercito in armi Lucca si trovava appena fuori da questa zona importante andiamo a tre immagini ecco qui possiamo vedere un'immagine della Lucca del centro storico di Lucca l'abbiamo intitolata così questa immagine Lucca medievale perché questo centro storico mantiene proprio l'impianto urbanistico della Lucca medievale ecco però ritorniamo indietro anche i romani avevano già realizzato una cinta muraria della città di Lucca si trattava di una cinta muraria decisamente più ristretta insomma rispetto alle mura del Cinquecento di cui abbiamo parlato di cui abbiamo parlato prima si può riconoscere anche il Cardo e il Decumano e poi ancora era di importanza strategica infatti in caso di attacchi barbarici da nord Lucca rappresentava insomma una sorta di città fortezza che poteva rappresentare un baluardo all'arrivo diciamo di popolazioni minacciose quali appunto per esempio i Galli Lucca si trova proprio sul confine dell'olivo della penisola italiana quindi sul confine del clima mediterraneo che ha fatto trionfare la civiltà romana perciò Lucca risultava per i romani la città fortezza che doveva proteggere il cuore dell'impero il giardino dell'impero così lo chiamava per esempio Dante dalle ostilità della nord diciamo del continente ecco per esempio importante nel periodo del primo trionvirato dicevamo una posizione strategica fondamentale fu occupata dai goti nel 400 e dai bizantini nel 500 e poi come abbiamo spiegato fu una delle più importanti capitali del regno Longobardo si ricorda infatti che Desiderio III era chiamato Conte di Lucca e fu eletto re dei Longobardi nel 756 e poi ancora furono eletti Allone quinto quarto Conte di Lucca Duca di Pisa e poi ancora comunque dei Longobardi che diventarono alla fine vassalli di Carlo Magno perché quando sentiamo Desiderio ci viene in mente proprio la sconfitta definitiva dei Longobardi ecco la Lucca medievale torniamo alla Lucca medievale dobbiamo spiegare una cosa che la presenza del volto santo nella chiesa di San Martino poi andremo a vederla questa questa immagine diciamo c'è una specie di piccola cappella all'interno della chiesa di San Martino praticamente all'interno del Duomo in cui è custodito questo volto santo la presenza di questo volto santo divenne appunto un'attrattiva possiamo dire di carattere religioso nel periodo medievale così Lucca diventò una tappa principale nel pellegrinaggio che conduceva attraverso le vie insomma dei pellegrini medievali la cosiddetta via francigena da Roma a Canterbury oppure da Roma a Santiago de Compostela insomma era lungo una delle vie di comunicazione più importanti del medioevo allora nel 773 dicevamo che cadde il dominio Longobardo su Lucca abbiamo parlato infatti dell'arrivo di Carlo Magno durante questo periodo la città consolidò la posizione di rilievo conquistata nell'epoca Longobarda sviluppandosi grazie all'attività commerciali e alla produzione tessile per la quale diventò una città celebre in tutta Europa la produzione tessile fu l'inizio della crescita economica lucchese grazie all'avvio della manifattura della seta Lucca si impose ancora di più sui mercati europei l'altissima qualità del prodotto era dovuta alla finezza del materiale e alla bellezza dei decori insomma Lucca diventa ricca proprio per l'arte della lavorazione dei tessuti e quindi anche per il commercio di questi tessuti di queste sete e quindi la città crebbe notevolmente durante il medioevo e poi stavamo dicendo che la presenza di questa reliquia questo volto santo che rappresenta il Cristo cucifisso e che tuttora si trova nel Duomo di Lucca e poi per le reliquie di altri importanti santi quali San Frediano San Regolo San Cesario di Terracina Lucca diventò veramente insomma un luogo importantissimo addirittura poi un vescovo di Lucca diventò Papa con il nome di Alessandro II poi ancora l'arcivescovo di Canterbury passò appunto da Lucca nel suo viaggio di ritorno da Roma ed effettivamente ci fu però nel corso del medioevo come sappiamo una lotta intestina in tante città anche nella città di Lucca lotte tra Guelfi e Ghibellini malgrado ciò nel XIV secolo Lucca diventò una delle più importanti città del medioevo italiano ecco abbiamo detto che si trattò di un comune e di una repubblica tuttavia in alcuni periodi abbastanza limitati diciamo che le famiglie nobili della città riuscirono ad avere un certo potere per esempio la famiglia dei Nuccorini che vediamo iscritta come supremo magistrato dell'anzianato quindi evidentemente di una magistratura degli anziani della città di Lucca Dante Alighieri incluse molti riferimenti alle grandi famiglie feudali di Lucca che avevano poteri amministrativi e di giudici Dante stesso spese molti dei suoi anni in esilio a Lucca ecco parliamo adesso di un personaggio importante Castuccio Castracani chi era? era un condottiero ghibellino di grande capacità politica e militare che riesce a fare diventare Lucca addirittura una sorta di antagonista di Firenze della Firenze diciamo Guelfa e perfino fece vincere Lucca nel 1325 nella battaglia di Alto Pascio dove appunto riesce a sconfiggere l'esercito fiorentino che era oggettivamente più forte di quello lucchese inseguendolo addirittura fino sotto le mura di Firenze quasi minacciando Firenze di occuparla quindi un condottiero piuttosto importante alla morte di Castruccio però la città cadde in un periodo di anarchia che la vede soggiacere a dominio dei Visconti poi dal governo di Giovanni dell'Agnello doge della Repubblica di Pisa la vicinanza con Pisa la rende per esempio in questo periodo siamo intorno alla metà del 1300 succube rispetto alla città di Pisa Lucca riottenne la libertà nel 1370 per intervento dell'imperatore Carlo IV a questo punto Lucca si diede un governo repubblicano qui possiamo vedere ad esempio il palazzo Pretorio con una corta politica estera tornò a conoscere una notevole fama in Europa grazie ai suoi banchieri e al commercio della seta l'imperatore Carlo evidentemente legato a questa città concesse alla città anche la possibilità di dotarsi di uno studium generale quindi di una sorta di liceo ma Lucca dovette aspettare parecchio tempo prima di avere una vera e propria università la ebbe infatti solamente nel 1787 ecco osserviamo adesso uno dei monumenti insomma più suggestivi della città di Lucca si tratta della torre Guinigi sulla torre Guinigi come vedete c'è un giardino pensile e da questo giardino pensile insomma dalla sommità di questa torre si può ammirare il panorama della città abbiamo inserito a questo punto l'immagine la slide della torre Guinigi per ricordare appunto questo personaggio il Guinigi era molto potente nel 1400 a Lucca era praticamente una sorta quasi di signore di Lucca forse sotto il Guinigi Lucca era diventata momentaneamente una signoria invece che una repubblica come sarà per il resto di questi secoli nel 1429 però Firenze assediò Lucca proprio per vendicarsi di questo Guinigi che si era schierato dalla parte di Milano durante una guerra precedente dopo diversi giorni di assedio Lucca chiese aiuto a Milano e per soccorrere Lucca venne inviato Francesco Sforza che col suo esercito travolse i fiorentini e li costrinse alla ritirata pochi giorni dopo però questa ritirata dei fiorentini i lucchesi fecero arrestare i Guinigi cioè il loro ex signore perché si diceva che comunque avesse trattato con i fiorentini in seguito Firenze pagò Francesco Sforza per abbandonare Lucca e nel 1430 Lucca fu assediata ancora una volta dai fiorentini i fiorentini avevano pagato Francesco Sforza perché se ne andasse durante questo secondo assedio praticamente l'anno dopo rispetto a quello del 1429 è andato male per l'arrivo di Francesco Sforza durante questo secondo assedio del 1430 i fiorentini tentarono di arginare il serchio per allagare Lucca ma per via di alcuni errori si allagò invece l'accampamento fiorentino cioè l'accampamento dell'esercito che stava assediando la città intanto i lucchesi chiesero di nuovo aiuto stavolta a Filippo Maria Visconti che ancora una volta agì indirettamente chiedendo ai genovesi di aiutare Lucca Genova facendo valere un'antica alleanza con Lucca chiese a Firenze di non disturbare più la città di Lucca a rifiuto di Firenze Genova inviò un esercito di 6.000 uomini guidati da Niccolò Piccinino e attaccò i fiorentini sul serchio dopo una sanguinosa battaglia i fiorentini vennero costretti a ritirarsi perché i lucchesi li avevano presi alle spalle uscendo dalla città e quindi furono accerchiati da una parte i 6.000 genovesi dall'altra i lucchesi e i fiorentini furono costretti ad andarsene via insomma a quanto pare i lucchesi avevano dei buoni amici quali appunto i Visconti di Milano e i genovesi ecco questo è il palazzo del governo della Repubblica di Lucca che poi diventò diciamo penso nell'ottocento palazzo ducale perché la Repubblica di Lucca che aveva una bandiera che è molto simile a quella della Polonia avete in mente la bandiera della Polonia quindi due strisce una bianca sopra e una rossa sotto ecco la bandiera della Repubblica di Lucca era essenzialmente questa quindi per secoli e secoli Lucca si governò da sola con questa con questa Repubblica una Repubblica indipendente arrivarono i francesi Napoleone ecco la piazza Napoleone di cui vi parlavo prima nel 1799 e Lucca cadde sotto l'attacco dei francesi il 23 giugno 1805 su richiesta del senato di Lucca venne costituito il principato di Lucca e Piombino assegnato alla sorella di Napoleone Bonaparte Elisa Bonaparte Baciocchi Elisa Baciocchi di cui abbiamo parlato prima e al marito ovviamente di lei Felice Baciocchi quindi i lucchesi diciamo che trattano con Napoleone e riescono a riavere una certa indipendenza sotto la guida di Elisa Baciocchi la sorella di Napoleone e del marito poi però le cose cambiano con il congresso di Vienna infatti nel congresso di Vienna venne deciso di creare il Ducato di Lucca ecco ricordate che ho detto palazzo palazzo del governo della repubblica nel 1800 diventò palazzo ducale questo Ducato di Lucca il 10 maggio del 1815 venne affidato a Maria Luisa di Borbone della Ramo dei Borbone di Spagna dobbiamo dire che questa Maria Luisa di Borbone però fu molto ben voluta dal popolo lucchese fu quella che come vi stavo anticipando prima sistemò tutta la cerchia delle mura in modo da renderla una piacevolissima passeggiata a lei succedette Carlo Ludovico di Borbone del ramo di Borbone di Parma che erano anche duchi di Parma che appunto ebbe il potere su Lucca tra il 1824 e il 1847 nel 1847 Lucca venne ceduta al Granducato di Toscana poi come ben sappiamo tutto il Granducato di Toscana fu annesso al regno di Sardegna nel 1860 che l'anno seguente sarebbe diventato il regno d'Italia insomma qui possiamo dire nell'800 appunto dei sovrani illuminati in tema con quello che sarà il nostro incontro tra quattro giorni sul dispotismo illuminato andiamo adesso a vedere per esempio ah sì l'orto botanico dobbiamo dire infatti che nel 1820 Maria Luisa di Borbone del ramo di Spagna fondò l'orto botanico che senso fondò perché l'orto botanico era una vera e propria fondazione una fondazione scientifica non è solo non so un'attrazione ecco perché effettivamente in questo orto botanico ci sono stupendi esemplari di piante provenienti da diverse parti del mondo ma era una vera e propria fondazione scientifica anche adesso l'orto botanico di Lucca ha un suo valore scientifico piuttosto importante ecco il motivo per cui vi dicevo questa Maria Luisa di Borbone era stata ben voluta ricordate aveva creato la passeggiata l'orto botanico che come potete intuire da questa fotografia si trova proprio vicino alle mura di cui abbiamo parlato altre cose suggestive da ricordare di Lucca beh sicuramente uno dei suoi figli più importanti è Giacomo Puccini che è nato a Lucca nel 1858 si trova una bellissima statua di Puccini in piazza cittadella dove probabilmente si trova anche la sua residenza ecco la sua casa di origine familiare e alcuni hanno proposto che questa piazza si è intitolata a Giacomo Puccini Giacomo Puccini è stato un compositore di opere liriche probabilmente il più importante successore di Giuseppe Verdi iniziatore però anche di uno stile diverso rispetto a quello verdiano ecco adesso invece potete vedere lo stemma di Lucca vi ho già parlato prima di queste due fasce c'è quella bianca sopra e quella rossa sotto qui possiamo vedere che questo stemma è poi ancora decorato con una palma di alloro e un nastro tricolore in basso e da una città turrita una sorta di corona di città turrita in alto nel 1989 Lucca vince il premio Europa un riconoscimento attribuito alle città che si impegnano a promuovere la coesione tra le nazioni europee il 24 novembre del 2006 Lucca ha ospitato il vertice bilaterale Italia-Francia alla presenza del presidente del consiglio italiano Romano Prodi e del presidente della repubblica francese Chirac nell'aprile del 2017 Lucca è stata la città ospitante del G7 dei ministri degli esteri dei sette paesi più potenti della terra al quale presero parte quindi i ministri degli esteri di Italia Canada Francia Germania Giappone Regno Unito e Stati Uniti Lucca ha una vocazione artistica di lunga data per esempio qui nacque oltre a Giacomo Cuccini di cui abbiamo parlato prima anche Francesco Geminiani celebre compositore e violinista della signoria della repubblica insomma di Lucca dal 1710 al 1714 dobbiamo ricordare anche che a Lucca si tiene annualmente un importante festival Lucca Comics del fumetto e di tantissime altre arti analoghe è un punto di ritrovo fondamentale Lucca dicevamo da un punto di vista culturale ancora oggi Lucca è meta di pellegrinaggi religiosi appunto per il andare a vedere il volto santo se non sbaglio proprio nel mese di settembre poi c'è una giornata dedicata a questo volto santo in cui il popolo può partecipare e anche addirittura c'è una sorta di funzione di rito all'interno di questa piccola suggestiva cappella che si trova dentro il duomo di San Martino esattamente come la porzioncola si trova all'interno della basilica francescana ad Assisi bene allora interrompiamo la condivisione o comunque andiamo a vedere i commenti dei nostri amici su youtube ecco Enzino Norro dice ah sì la piazza che abbiamo visto prima era una piazza collegata al duomo da una viuzza quella di San Martino buonasera professore dice Loredana bellissima questa lezione sul medioevo epoca di grandi scoperte di invenzioni di grande preghiera è sempre un piacere ascoltarla per imparare a qualunque età salute a tutti quindi saluti a Paolo Rossi salute a Enzino Lorro salute a Federico Guastaroba appunto Loredana che ci hanno seguito da youtube salute a tutti gli amici che ci hanno seguito da facebook Alessandra spero che poi alla fine sia riuscita insomma a sentire un pochino meglio dal punto di vista del volume la mia vacanza è andata bene le mie vacanze sono sempre molto molto riposanti e quindi adesso riprende il ritmo dei nostri incontri ogni 48 ore a sere alterne ci troveremo infatti dopo domani alla stessa ora venerdì 13 alle 20.45 a parlare della peste di Albert Camus domenica 15 agosto illuminismo e dispotismo illuminato martedì 17 agosto Giuseppe Parini e la salubrità dell'aria giovedì 19 agosto il Teatro Reggio di Torino sabato 21 agosto serata Queen seconda parte una serata musicale lunedì 23 agosto il Kazakistan quindi di geografia mercoledì 25 la battaglia di Canne quindi di storia romana venerdì 27 la ragazza di Bube di Carlo Cassola quindi di letteratura italiana del 900 domenica 29 agosto serata Francesco De Gregori serata musicale poi ancora riprenderà la prima rivoluzione industriale l'ultimo giorno di agosto il 2 settembre Giovanni Fattori di arte il 4 settembre una poesia di Alda Merini e tantissimi altri incontri di letteratura di storia di geografia di arte di musica per ritrovarci insieme tra amici ogni 48 ore per passare un po' di tempo diciamo per far ragionare un po' anche il cervello insomma per far lavorare le nostre celluline grigie come diceva in quel telefilm e quindi in qualche modo tenerci svegli e attenti soprattutto alle bellezze della cultura le bellezze dell'arte e della letteratura e della musica ciao a tutti quindi ciao anche a Asia Marcon a Luca Scrivano ad Alessandro a Lorenzo a Raffaella Ugolini a Simona Martinotta che ci hanno seguito da Instagram non vi preoccupate potrete rivedere questo video su YouTube poiché adesso vado a terminare lo streaming comincio a terminarlo qua su Facebook benissimo poi lo termino qua su YouTube e potrete rivedere comunque questo video su YouTube quando vorrete e lo termino anche su Instagram potrete rivederlo su YouTube